Devo dire che è sempre un grande piacere condividere insieme a tanti colleghi un nuovo modo di pensare l'implantologia, di pensare alla salute dei nostri pazienti, non solamente come una visione limitata al dente, alla bocca e a tutto, ma nel contesto di un insieme di una salute biologica di tutto l'organismo e di mantenere quell'omeostasi di livelli che fanno veramente la qualità della vita, il famoso wellness che tanto noi tutti cerchiamo e quindi di cercare di mantenere questo equilibrio, quindi non turbarlo con le nostre cure, con inserire qualche cosa diverso. L'implantologia ceramica sicuramente è uno step in questo passo, è un qualcosa di assolutamente non invasivo per l'organismo che però allo stesso contempo ti permette di riabilitare queste bocche nella maniera migliore e soprattutto anche dal punto di vista estetica, dove l'estetica oggi è diventato un elemento fondamentale, quindi si va sempre di più nel mondo dove biologia ed estetica vanno a braccetto proprio per un wellness del paziente, sia dal punto di vista psicologico e relazionale, e lì la bellezza, il sentirsi a proprio agio con la propria bocca, sia dal punto di vista biologico, cioè non avere elementi che vanno a turbare quell'equilibrio naturale che è dato al nostro organismo.